Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti che sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi, perciò, Sorana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi in regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Dal Libro di Cielo, volume 29, 19 maggio 1931, Scene nell'Eden, caduta dell'uomo, la regina del cielo che schiaccia il capo al serpe infernale, come le parole di Gesù tengono la virtù comunicativa, come parla dei dubbi e difficoltà. Stavo continuando i miei atti nel volere divino ed unendomi ai suoi atti che fece nella creazione per dargli l'omaggio, l'amore e l'adorazione per ciascuna cosa creata, per amore delle creature. La mia povera mente si è portata nell'Eden, nell'atto della caduta dell'uomo, e consideravo come il serpe infernale con la sua astuzia e bugia indusse Eva a sottrarsi dalla volontà del suo creatore, ed Eva con i suoi modi lusinghieri indusse Adamo a cadere nello stesso peccato. Ora, mentre ciò pensavo, il mio amato Gesù mi ha detto, figlia mia, il mio amore non si estinse per la caduta dell'uomo, ma si riaccese di più, e sebbene la mia giustizia giustamente lo punì e lo condannò, il mio amore, baciando la mia giustizia senza frapporre tempo in mezzo, promise il futuro detentore e disse al serpe ingannatore con l'impero della mia potenza, tu ti sei servito di una donna per strapparmi l'uomo dalla mia volontà divina, ed io per mezzo di un'altra donna, che terrà in suo potere la potenza del mio Fiat, abbatterò il tuo orgoglio e col suo piede immacolato ti schiaccerà la testa. Queste parole bruciarono più dello stesso inferno il serpe infernale, e chiuse tanta rabbia nel cuore suo che non poteva stare più fermo, non faceva altro che girare e rigirare la terra per scoprire con lei che doveva schiacciargli la testa, non per farsela schiacciare, ma per poter con le sue arti infernali, con le sue astuzie diaboliche, far cadere con lei che doveva sconfiggerlo, debilitarlo e legarlo nei cupi abissi. Quindi per quattromila anni andò sempre girando, e quando vedeva donne più virtuose e buone, armava la sua battaglia, le tentava in tutti i modi, ed allora le lasciava quando si assicurava, per mezzo di qualche debolezza o difetti, che non era con lei, per mezzo della quale doveva essere sconfitto, e proseguiva il suo girare. Onde venne di fatti la celeste creatura che gli schiacciò la testa, ed il nemico sentiva tale potenza in lei che lo atterrava e non aveva la forza di avvicinarsi. Questo lo rodeva di rabbia, e metteva tutte le sue armi infernali per combatterla, ma che? Faceva per avvicinarsi, si sentiva fisicare, rompere le gambe e costretto a rivolgersi indietro. Da lontano spiava le sue mirabili virtù, la sua potenza e santità, ed io per confonderlo e metterlo in dubbio, gli facevo vedere la sovrana celeste nelle sue cose umane, come il prendere cibo, il piangere, il dormire ed altro, e lui si persuadeva che non era con lei che doveva sconfiggerlo, perché essendo tanto potente e santa, questa non doveva essere soggetta ai bisogni della vita, ma poi ritornava ai suoi dubbi, e voleva ritornare all'assalto, ma in vano. La mia volontà è potenza, che debilita tutti i mali e tutte le potenze infernali. E' luce che si fa conoscere da tutti, e dove essa regna fa sentire la sua potenza, che neppure agli stessi demoni viene loro di disconoscere. Quindi la regina del cielo era ed è il terrore di tutto l'inferno. Ora il serpe infernale sente sul suo capo la mia parola pulminia, dettagli nell'Eden, la mia condanna irrevocabile, che una donna gli schiaccerà la testa. Quindi sa che con l'essere schiacciata la sua testa, sarà rovesciato il suo regno sulla terra, perderà il suo prestigio e tutto il male che gli fece nell'Eden, per mezzo di una donna sarà rifatto da un'altra donna, e sebbene la regina del cielo lo debilitò, gli schiacciò la testa, ed io stesso lo leghi alla croce, quindi non è più libero di fare quello che vuole, tuttavia di chi sventuratamente si avvicina, ne fa scempio, molto più che vede che la volontà umana non è soggiocata dalla Divina, ed il suo regno non è formato ancora, teme che un'altra donna abbia a finire di bruciargli la tempia per fare che la condanna divina abbia sul suo capo schiacciato dal piede dell'immacolata regina il suo compimento, perché sa che quando io parlo la mia parola ha virtù comunicativa ad altre creature, quindi come si assicurò che con lei che lui temeva era la Vergine Santissima e non potendola più combattere riprese il suo giro, sta a tutt'occhio e come alla vedetta per vedere se alta la donna avesse il compito da Dio di far conoscere la Divina Volontà per farla regnare, ed avendoti visto scrivere tanto sul mio Fiat, il solo dubbio che ciò potesse essere ha suscitato tutto l'inferno contro di te. Ecco la causa di tutto ciò che hai sofferto. Servendosi di uomini malvagi, facendoli inventare calunni e cose che non esistono, onde nel vederti tanto piangere ci sono persuasi che non sei tu che puoi portargli la rovina che tanto temono al loro regno diabolico. Questo è ciò che riguarda la Vergina del Cielo da parte del Serpente Infernale. Ora voglio dirti ciò che riguarda la parte delle creature a pro di lui. Per la straordinaria importanza degli argomenti affrontati in questo scritto, che continua ancora per ben quattro pagine, appunto come Gesù ha appena annunciato, dicendo che dopo questo splendido escursus riguardante la furia satanica contro la Madonna, adesso farà una lezione per quello che riguarda le creature. E essendo impossibile meditare adeguatamente entrambi i punti, anche perché la lettura ci porterebbe almeno altri 4-5 minuti di tempo, è bene suddividere questa parte del 19 maggio in due parti. Anche perché siamo nell'ottava dell'assunta e la lezione fatta da Gesù oggi è veramente straordinaria, che in parte poi riprende a mio avviso alcune suggestioni presenti ieri. Noi sappiamo che negli scritti di Luisa Piccarreta si parla tantissimo di Adamo, tantissimo. Perché? Perché in realtà è Adamo il responsabile della rovina del genere umano. Tante volte, in tante catechesi, ho detto che se Adamo, per una felice circostanza, non avesse assecondato o seguito Eva nel suo peccato, il genere umano non sarebbe stato rovinato. Perché il capostibile del genere umano è Adamo. E per rovinare il genere umano bisognava far cadere Adamo, non Eva. La caduta di Eva sarebbe stata la rovina di Eva, la caduta di Adamo sarebbe stata la rovina del genere umano. Ecco perché negli scritti, ma anche nelle lettere di San Paolo, capirete tra poco perché approfondisco queste considerazioni, non si parla mai di Eva, quasi mai, ma si parla di Adamo e del nuovo Adamo che rovescia il primo Adamo che è Cristo. Però attenzione che nella Sacra Scrittura c'è scritto, e questo non può essere bypassato, che il peccato originale è stato commesso da Adamo sotto istigazione di Eva. E questa è una dottrina capitale, di fondamentale importanza per la comprensione di tantissime cose, come ho cercato, anche io l'ho fatto riferimento a questo, però è inevitabile, di spiegare nella Ciclo di Catechesi sul peccato originale. E anche lo scritto di oggi di Guisa, che se li avessi rimeditati prima di concludere quel Ciclo di Catechesi, certamente li avrei usati questi due scritti, ribadisce la dottrina tradizionale, evidentemente della Chiesa sul peccato originale, senza indulgere a fantasie di altro genere. Cioè, in quel sacerdote che ho citato già ieri, che racconta di aver avuto rivelazioni che farebbero conoscere la natura del peccato originale, una delle cose a mio avviso assolutamente più, come dire, problematiche e che rendono, ripeto, lo stato attuale inaccettabile quello che questo pur santo sacerdote scrive, è che nel peccato originale Eva non c'entra niente, Eva è una creatura innocente per antonomasia, non c'è. Il peccato originale è commesso da Adamo per una sua, certamente, marachella grossa, ma Eva addirittura è una santa e innocente bambina. Ma questo non può essere. Ma non può essere per tanti motivi, perché, vedete, il fatto che Eva fu la causa del peccato originale è la giustificazione teologica, che non è un fatto semplicemente teorico, ma è un fatto concreto, perché quello che Dio fa non lo fa perché ha le fissazioni teologiche, sono gli uomini che hanno le fissazioni teologiche, Dio non ha le fissazioni teologiche. Dio ha una sapienza infinita. L'opera della redenzione, questo è l'insegnamento costante di tutti i padri della Chiesa, è stato il rovesciamento, quindi l'inversione, il capovolgimento, compiendo atti uguali e contrari della disfatta della caduta. Perché Maria è stata associata da Gesù all'opera della redenzione? Attenzione, pur non essendocene bisogno, cioè nessuno pensi, quando sarà fatto il dogma della corredenzione, perché sarà fatto, io non ho nessun dubbio, nessuno dirà, nessun Papa oserà dire che la Madonna era assolutamente indispensabile all'opera della redenzione e che quindi Dio doveva per forza servirci di una corredentrice. Questo non esiste proprio. Quello che si dirà è che di per sé Gesù Cristo avrebbe potuto redimere il genere umano facendo tutto da solo perché non c'è bisogno di niente e di nessuno. Ma, ma, c'è un ma, c'è un ma. C'era una pagina scritta da Satana che doveva essere cancellata e riscritta. Quella pagina fu scritta nell'Eden. Quella pagina coinvolse il libero arbitro di una donna che cominciò e cadde per prima e trascinò l'uomo nella caduta. E conseguentemente rovesciare questa situazione significa che nell'opera della redenzione si deve verificare il contrario. Un uomo che non cade e che coinvolge attivamente nella sua non caduta e nella sua azione salvifica una donna. Questo è il contrario di quello che è successo nel peccato originale. E questo, certamente, Dio non è necessitato in nessuna delle azioni che fa. Però, quando Dio fa una cosa, Dio non è come noi uomini. Dio non fa le cose a vanvera, come tante volte facciamo noi, o così a caso. Dice, vabbè, facciamo così perché mi va. No, amici cari. Dio, quando fa una cosa, è perfezione assoluta. Quindi, come si dice in teologia, ma che era indispensabile che il verbo si facesse uomo per la redenzione? Non vi scandalizzate della risposta. La risposta è no. Non era assolutamente indispensabile. Perché Dio è onnipotente, ha infiniti modi per realizzare la redenzione. Ma il fatto che abbia scelto questo, che significa? Significa che questo è il modo migliore in assoluto che esista. Perché quando Dio fa una cosa, Dio non fa una cosa tanto per farla. Dio, in quello che fa, è sempre perfezione assoluta. Cioè, a tutto quello che Dio fa, non si può muovere il minimo appunto di nessun tipo. Non solo non si può muovere il minimo appunto. Ma quello che fa è la cosa più perfetta in assoluto che si possa concepire e fare. È chiaro che se Eva non c'entra niente col peccato originale. La figura della Madonna, che cosa ci sta a fare? A che serve? A che cosa servirebbe il tanto importante dogma della corredentrice chiesto da Maria in persona durante l'apparizione di Amsterdam, tra l'altro, in Olanda, negli anni 50, 60, 70 del secolo scorso? Allora, qui Gesù parla in maniera molto, molto chiaro. E anche come ieri, poco equivoca. Ieri abbiamo visto che Gesù dice che Dio si è fatto le mani per plasmare l'uomo, per toccarlo tangibilmente e per sentire in sé, conservando in sé il tocco dell'uomo creato. Oggi che cosa viene a raccontare? Quello che è successo dopo. Il serpe infernale con la sua astuzia e bugia indusse Eva a sottrarsi dalla volontà del suo creatore. È stata lei. Ed Eva, coi suoi modi lusinghieri, la seduttrice proprio, indusse Adamo a cadere nello stesso peccato. Facciamo di nuovo, come qualche giorno fa, una comunione di scritti santi. Negli scritti di Maria Valtorta, Gesù commenta questa frase, questa stessa frase, anche se scritta altrove, dicendo, ma per questo sulla donna grava condanna peggiore. Perché, scusate, chi partorisce è la donna chi partorisce con dolore. Gli uomini non partoriscono, anche se tra poco si inventeranno pure questa cosa qui con tutte queste pazzie che stanno facendo adesso in giro. Chi ha il ciclo mestruale è la donna, non è l'uomo. E queste sono cose naturali, quindi non è che dici, sai, vogliamo fare le discriminazioni. Le altre cose, che ne so, le donne che non ci hanno avuto il diritto di voto, quelle sono discriminazioni umane, quindi queste le dobbiamo togliere e le abbiamo tolte. Ma queste cose non le può togliere nessuno. Perché queste cose sono dipendenti direttamente, evidentemente, dalla volontà di Dio, perché sono in rerum natura. Scusa. Allora, capiamo, no? Chi è che ha rovinato il genere umano? a Damo, perché se Damo non avesse peccato il genere umano non sarebbe rovinato. Ma su chi è stata fatta la condanna peggiore? Su Eva. E sui suoi discendenti di sesso femminile. E non c'è niente da fare, amici miei. Questi sono dati oggettivi, non sono fantasie. È un riflettere su ciò che si può constatare, che lo può constatare anche la più semplice, la più incolta delle persone che esistono sul pianeta Terra. E io sono contento, perché, capite, questi sono 36 volumi. Cioè, quello che certamente anche io mi ero riportato, ci ho fatto un circo di catechesi, Adamo e la vita nella divina volontà, è che fondamentalmente Gesù parla sempre, o quasi sempre, di Adamo, di Eva quasi mai. Eccone una circostanza. Non parla quasi mai del diavolo, ma qui oggi, eeeh, andiamo a vedere, adesso che siamo già quasi a 20 minuti, non vorrei dilungarmi troppo, perché c'è stata tantissima carne al fuoco già con la prima parte di questa meditazione, no? Allora, che cosa succede? Che succede? Vedete il protovangelo, quella di schiaccerà la testa e tu non siederai il calcagno. Cosa dice Gesù? Ti sei servito di una donna, per sapparmi l'uomo dalla mia volontà divina, ed io per mezzo di un'altra donna, gliel'ha detto al diavolo, che terrà in suo potere la potenza del mio fiat, batterò il tuo orgoglio, e col suo piede immacolato ti schiaccerà la testa. E che è successo da quel momento a poi? Apri di cielo! È successo il finimondo! Il diavolo si è imbestialito, dice queste parole bruciarono più dello stesso inferno, del serp infernale, e chiuse tanta rabbia nel cuor suo che non poteva stare più fermo. si è impazzito, si è. Ha cominciato a dire, dove sta questa? Mo te faccio, vede io. Mo comincio a girare per il pianeta, e che te dotto scappa? Io sono angelo, io mi muovo alla velocità altra, che è la velocità della luce, a me mi fa un baffo, la trovo, la trovo e la faccio cadere. La trovo e la faccio cadere. Perché se la faccio cadere, non starà immacolata, e quindi non potrà schiacciarmi la testa, perché se la faccio cadere, come ogni persona che cade nel peccato originale e attuale, questo troppo facilmente ce lo dimentichiamo, sarà mia schiava. E un mio schiavo non mi schiaccia la testa, non me la può schiacciare. Forse un giorno, se Dio lo salva, si sottrarà da tutta la mia schiavitù, ma non mi schiaccia la testa. L'ho schiacciata io, facendola cadere. Attenzione a queste cose, amici. E questo comincia a girare come un pazzo. Non faceva altro, dice Gesù, qui cito, che girare e rigirare la terra, per scoprire con lei che doveva schiacciargli la testa. Non per farsela schiacciare, ma per poter con le sue arti infernali, far cadere con lei che doveva sconfiggerlo, debilitarlo e legarlo in occupi abissi. Il grande nemico della Madonna è stato il diavolo. Si è combattuto una battaglia frontale, personale, uno contro l'altra. Il diavolo individua i suoi nemici specifici, particolari. La Madonna è stata una, ma poi vedremo. Ogni volta che c'è una persona chiamata a grandi opere, e a quanto pare, vedete, il nostro Signore fa questa cosa. Questo risulta dalla Sacra Scrittura, risulta anche dal libro di Giopera, fa questa cosa misteriosa. Glielo dice. Forse non gli dice chi è, ma gli dice, guarda che sorgerà qualcuno che farà questa cosa. E' chiaro che il diavolo, avendo la conoscenza, mica resterà a guardare, a braccia concerti. Farà il diavolo a quattro farà, per farlo cadere o per farla cadere. Per impedire che si realizzi quello che Dio vuole attraverso quella persona. E allora prosegue il testo. Per quattromila anni andò sempre girando. E quando vedeva donne più virtuose e buone, diciamo un po' di esempi, Maria, la sorella di Mosè, Sara, la moglie di Abramo, Ruth, Giuditta, Esther, insomma, queste sono Anna, madre di Samuele, queste sono grandi, la santa donna, la madre dei sette maccabei, popedina, che si sono ammazzati i figli tutti e quattro e sette sotto i loro occhi. Ci sono tante donne virtuose nell'Artico Testamento che sono tra l'altro figure della Madonna, di Maria Santissima. Sicuramente ne sto dimenticando qualcuno adesso, però ne ho citata soltanto qualcuno a titolo di esempio. Dice però, quando le tentavo in tutti i modi e le lasciava, quando si assicurava, per mezzo di qualche debolezza o difetto, quindi è caduta in questa debolezza, è caduta in questo difetto, non è lei. Se non è lei, va, vuole fare la santarellina, faccia pure la santarellina che tanto non mi interessa troppo, non è quella che mi deve fare guai grossi al mio regno. Divertiti a fare la santarellina, andiamo a cercare chi è quella che mi deve schiacciare la testa. Le lasciavo quando si assicurava, per mezzo di qualche debolezza o difetto, che non era con lei, per mezzo della quale doveva essere sconfitto. Attenzione però, proseguiva il suo girare. E a un bel giorno nacque sulla terra quella creatura che doveva schiacciargli la testa. E qui, di nuovo, cioè se qui si vede anche, si va a vedere, si vanno a confrontare gli iscritti di Luisa, con quelli di Maria Valtorta e con quelli di Maria da Greta, su questo punto sono completamente all'unisono. Quando il diavolo si avvicinava alla Madonna, sentiva tale potenza in lei che lo atterrava e non aveva la forza nemmeno da avvicinarsi. E questo lo rodeva di rabbia. Bisogna leggere i passaggi di Maria da Greta su queste cose che fanno pure ridere. Il diavolo, che a un certo punto scende all'inferno e convoca i concili satanici, conciliaboli satanici, chiama gli altri demoni e dice, ma c'è sta questa in giro? Io la sto guardando. Sì, fa una vita normale. Adesso, qui Gesù lo dice, qui, lo dice, più avanti. Dice, io per confonderlo, metto in un dubbio, gli facevo vedere la storia una celeste nelle sue cose umane. Prendere cibo, piangere, dormire. È incredibile, questo è identico a Maria da Greta. Andatelo a leggere. Il diavolo convoca si conciliaboli e dice, ah, c'è questa che mi sta a far preoccupare. Questa mi sta a far preoccupare, questa è proprio santa, non mi riesco neanche a avvicinare per retentarla. Però la guardo, mangia, dorme, piange, bah, quella che mi deve schiacciare la testa avrà queste umane debolezze. Forse non è lei, però il dubbio gli rimaneva. Era la stessa identica cosa che accadeva con il nostro Signore Gesù Cristo, quando poi sarebbe venuto. Lui ci ha avuto il dubbio che fosse o non fosse lui fino alla fine, altrimenti non l'avrebbe ammazzato. E questo lo rodeva di rabbia. Ma quando si avvicinava si sentiva rompere le gambe e costretta a tornare indietro. E quindi spiava da lontano le sue virtù, la sua potenza e santità. Ma è spettacolare questo qui. È spettacolare. La regina del cielo, quindi, e dobbiamo dircelo in questi giorni che la contempliamo assunta e tra poco regina, era ed è il terrore di tutto l'inferno. Era ed è il terrore. Ecco perché chi sta con Maria? Ecco perché in questi tempi, aspettiamo domani quello che ci tratta nostro Signore, ma perché la Madonna sono secoli, secoli ormai, perché Fatima è passato più di un secolo, che dice Rosario, 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 Rosario. Dice Rosario, anche a Lourdes dice a Rosario, Rosario non è una corona del Rosario, Rosario sono i 150 di Maria, almeno i tre misteri tradizionali. Meglio se si aggiunge anche il quarto. Rosario. Perché quando il diavolo è scatenato e adesso sta proprio facendo il pazzo furioso che non ha ancora finito, non è finito purtroppo. Io spero che nessuno dei miei amici membri della Chiesa, perché questi sono i miei amici membri della Chiesa, non c'è niente di diverso da questo, si illuda che i guai siano finiti. Io non voglio mandare per storto né la giornata, né la vita a nessuno, ma abbiamo visto soltanto l'aperitivo, speriamo l'antipasto, perché se fosse solo l'aperitivo sarebbe un po' peggio. Io spero l'antipasto, ma non è finita. Prima che il diavolo sarà schiacciato, ne dovremo vedere ancora un bel po'. Questa è mia opinione soggettiva e personale, ma ritengo abbastanza verosimile, perché è fondata sui fatti, su tantissime profezie e su tante cose che non ci vuole una grandissima intelligenza, credo, per poterci arrivare. E attenzione, qui Gesù fa un altro passaggio, perché come mai gli iscritti sulla Divina Volontà sono stati dati ancora una volta a chi? A una donna! Perché non è stato un uomo? Perché non è stato il santo Annibale di Francia a ricevere le rivelazioni sulla Divina Volontà? Ma come mai? E perché le più grandi sante, le più grandi nemiche del diavolo, sono state quasi sempre grandi donne? Questo grande misterioso fascino della donna, che è questa corda, io la chiamo la corda tesa tra Eva e Maria, cioè o è la rovina di se stessa e del genere umano, e quante ce ne stanno oggi? Ieri una l'ho incontrata qui da queste parti, preferisco stendere un velo pietoso su quello che è successo di un incidente avvenuto in chiesa cosa usciva dalla bocca di questa povera creatura, oppure è Maria, cioè la salvatrice dell'umanità. La donna ha questa cosa sulle spalle, questo se lo mettono bene in testa le donne, questo vale per la sua vita, vale per la famiglia, vale per la chiesa, vale per il mondo. La donna o è rovina o è salvezza. A me dispiace, non dipende da me, questo non sono, non credo che siano mie idee personali, queste sono riflessioni che dipendono da constatazioni di ciò che è accaduto e di ciò che il Signore su quello che è accaduto ha rivelato e ha detto. Luisa era una donna, non era un uomo. Tutto il male che egli fece nell'Eden per mezzo di una donna sarà rifatto. Ora la regina del cielo l'ha debilitata e gli ha schiacciato la testa. Ma lui vede che nonostante questo la volontà umana non è ancora soggiogata alla Divina e quindi il suo regno non è formato e quindi il diavolo continua a fare il pazzo sul pianeta Terra. Perché sapete quanto smetterà di fare il pazzo? Ci metterà le mani il nostro Signore ma il metterci le mani il nostro Signore e il cuore immacolato di Maria non è un caso che il trionfo della Chiesa sia legato al trionfo del cuore immacolato di Maria. Non sarà altro che l'estaurazione del regno della Divina Volontà perché l'unico modo per far sì che il diavolo sparisca dalla circolazione non si possa nemmeno avvicinare è vivere nella Divina Volontà e io sono lontano da questo qui cioè l'unico modo per farlo sparire come ha fatto la Madonna. Allora lui c'aveva paura spiega Gesù qui siamo nel 1931 quindi Luisa stava ancora al lavoro mica era finito ci mancavano sette anni ancora alla fine dei libri di cielo dice qua ma sa che qualcuno mi finisce di bruciare le tempie ma che si fa che un'altra donna va pure a parlare della Divina Volontà così sono morto già questi hanno fatto la redenzione se si mettono in giro queste cose sono proprio morto e attenzione a cosa dice Gesù tutto l'inferno contro di te il solo dubbio che tu potessi essere questa e sappi che questa è la causa di tutto ciò che hai sofferto tutto l'inferno contro quando il diavolo comincia ad avere qualche sospetto che ci sia qualcuno o qualcuna che ha da Dio una missione particolare e che gli possa fare veramente del male al suo regno scatena il finimondo capiamo che significa finimondo ma pensiamo alla vita della Madonna questa la contempliamo assunta in cielo tante volte ma dovremmo piangere dalla mattina alla sera la Madonna è stata un eroe assoluto quello che ha passato durante la vita il male in tutte le forme che ha conosciuto le umiliazioni estreme le sofferenze gli strappamenti di cuore in continuazione e come ha ragito sempre stentoria sempre eroica soffrendo ma sempre unita eroicamente la volontà di Dio proprio un astro assoluto ma di più la Madonna non ci stanno parole la Madonna è un piccolo sole a fianco al sole un po' più piccolo del sole divino è qualche cosa di inimmaginabile no? e come l'ha fatto con Maria lo fa con Luisa e vedremo domani lo fa anche con gli esseri umani che reputa pericolosi 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 succede il finimondo e attenzione questo finimondo certamente nei personaggi destinati a come dire a fargli molto male è un super finimondo ma anche nella vita di noi poveri comuni cattolici poveri preti eccetera eccetera che comunque già per il fatto di essere fedeli del Signore un po' di male glielo facciamo attenzione quindi i piccoli finimondi li viviamo tutti quanti e anche qui a volte il Signore permette e fa vedere al diavolo delle debolezze ti hanno visto piangere ti hanno visto piangere tanto e allora si sono persuasi che non sei tu che può portargli la rovina che tanto temono al loro regno diabolico cioè è impressionante questo qui chiaramente per la Madonna non si tratta di peccati si tratta di necessità legati nemmeno di debolezza o imperfezioni perché mangiare bere e dormire e anche le lacrime sante che la Madonna piangeva che erano tutte sante non c'è niente di nemmeno di imperfetto a volte il Signore permette che fa vedere al diavolo o delle cose diciamo delle necessità materiali oppure forse anche delle imperfezioni o forse anche delle debolezze io questo non ne posso essere sicuro forse anche delle debolezze forse anche dei difetti che magari qualche volta debordano pure in qualche peccato veniale ovviamente semideliberato nei suoi eletti è possibile che Dio lo permetta perché così il diavolo li vede e magari dice ma no questo non mi farà troppi danni e magari gli concede un po' di tregua chi lo sa una lettura del genere apre scenari possibili perché nessuno di noi sta nella mente dell'altissimo nessuno di noi può conoscere i divini misteri ma dei come dire dei dei piani possibili di lettura e di interpretazione no? anche il motivo per cui a volte il Signore uno lo supplica lo scongiura aiutami a combattere questo difetto attorno di questa cattiva inclinazione dice io ce la faccio proprio che devo fare che faccio mi sparo non ce la faccio dammi una mano dammi una mano dammi una mano e quel difetto rimane allora uno se è umido dice è colpa mia non mi impegna abbastanza non mi sforzo abbastanza continuo a pregare però va proprio andando avanti per un sacco di tempo e quella cosa non passa è chiaro che il Signore non è contento dei difetti questo è evidente però sottolineiamolo però dinanzi anche al piccolo male come può essere un difetto a volte lo permette perché è meno peggio permettere quella cosa che non permetterla e lasciare che poi accadano altre cose Dio è perfettissimo nel suo operare non è stato perfettissimo soltanto in tutto quello che si è inventato con la Madonna e con l'opera della retenzione la sua perfezione quando la potremo vedere coinvolge la vita di ciascuno di noi fin nei minimi dettagli evidentemente di tutti coloro che lo amano e che cercano di fare la sua volontà San Paolo scrive che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio ecco perché la cosa più importante se mi posso permettere figlio a linee cari e poi concludiamo che siamo già andati oltre a tempo massimo figuriamo se avessimo detto anche la seconda parte abbiamo fatto la meditazione di un'ora stamattina e la cosa più importante è che rimanga nel cuore un amore sincero e profondo verso Gesù e Maria un desiderio ardente di fare la loro volontà tutto il resto che deriva dalla nostra estrema ecco miseria non sempre è il nostro potere ecco e se il nostro Signore non ce lo toglie speriamo che sia qualche divina per missione che consente appunto perché eliminare quella cosa in un momento inopportuno farebbe più danni che bene sicuramente è così ecco e in questo noi sempre vogliamo credere e confidare grazie a tutti 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 e ne ringraziamo con tutto il cuore nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria Grazie a tutti 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 Grazie a tutti